iscrivetevi ciao a tutti amici eccomi qua alla cena serale un mukbang l'insalata e carne adesso la gustiamo insieme adesso la gustiamo insieme adesso la gustiamo insieme vediamo com'è venuta facciamo un assaggio questo mukbang non è cucina non c'è non c'è non c'è Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.